E-News è presentato da Orfeo, hotel, ristorante e pizzeria. Buongiorno da E-News, webtg della città di Fano. Alberico Sanchioni si lamenta sullo stato in cui versa ogni fine settimana il chiostro di Santa Teresa. Ogni fine settimana il chiostro di Santa Teresa viene ridotto in uno stato indecente. Alberico Sanchioni, cittadino fanese residente nelle vicinanze del chiostro, esorta l'amministrazione comunale ad intervenire per risolvere il problema. Nonostante le proteste dei residenti, continua Sanchioni, non si sono presi provvedimenti per evitare le distese di bottiglie rotte e sporcizie avarie all'interno del chiostro. Visto che il prossimo anno ci saranno le elezioni amministrative, sarebbe opportuno che i vari candidati e partiti inseriscano nei loro programmi una serie di provvedimenti per risolvere questo gravissimo problema e fare in modo che non si arrivi al punto di non ritorno. Dal 18-19 novembre si amplia a Fano la raccolta differenziata porta a porta. La raccolta differenziata porta a porta si espande. A partire dal 18-19 novembre anche nelle zone del Don Gentili, Ex Caserma, Ospedale, Stazione, San Lazzaro, Colonna, Vallato, Aeroporto, Tre Ponti e Ponte Metauro partirà la raccolta di organico e secco, mentre i cassonetti stradali dell'indifferenziato verranno eliminati. La raccolta domiciliare della carta verrà invece sostituita con i cassonetti stradali. Per aiutare i cittadini ad affrontare il cambiamento, Asato organizza diversi incontri serali dove sarà possibile per chi ancora ne ha risolvere tutti i dubbi. Gli incontri inizieranno questa sera alle 21 presso il Cubo, al centro commerciale di San Lazzaro. Proseguiranno il 28 ottobre e il 4 novembre alla bocciofila combattente del Vallato e termineranno giovedì 7 novembre nella parrocchia di Santa Maria del Ponte Metauro. Oggi l'ultimo giorno valido per iscriversi a Chef in the City, la sfida tra i fornelli della città di Fano. Oggi è l'ultimo giorno utile per iscriversi a Chef in the City, l'iniziativa culinaria che decreterà il primo chef amatoriale della città della fortuna. Iscriversi è facile, basta presentarsi negli uffici di anteprima, agenzia organizzatrice dell'evento, in Via North 56 entro le 18.30 di oggi, sottoscrivere il regolamento e versare la quota di partecipazione di 15 euro. Da domani invece gli sfidanti potranno pensare a come conquistare la giuria tecnica durante la preselezione che deciderà chi saranno gli otto sfidanti di Chef in the City, che dal 12 novembre si daranno battaglia in quattro ristoranti della città per aggiudicarsi lo scettro di Chef amatoriale dell'anno. Presentate il nuovo logo del Liceo Artistico a Polloni, realizzato da Renato Buono dell'Accademia delle Belle Arti di Bologna. Siamo qui per conferire il premio di un bando che abbiamo indetto qualche mese fa, che aveva la finalità di creare un nuovo logo per il Liceo Artistico di Fano. Ci interessava vedere come il mondo esterno della Università, delle Accademie e degli altri istituti potesse vedere la nostra istituzione. L'esito è stato molto interessante, oggi abbiamo invitato le persone che ci hanno dato una mano a gestire questa iniziativa, ma anche ovviamente il vincitore che ha fatto il logo nuovo, che sarà utilizzato come gadget per creare una fidelizzazione della nostra scuola nell'utenza. ed è un logo che veicola anche i contenuti artistici e culturali del Liceo. Questa era l'ultima notizia, i News torna oggi pomeriggio alle 18.30. Buona giornata! I News è stato presentato da Orfeo, hotel, ristorante e pizzeria.